ciao a tutti ragazzi e ragazzi come state come va tutto bene allora una novità ho trovato nella buca questo volantino di casanova e ho pensato di sfogliarlo insieme a voi perché è un piccolo catalogo appunto tutto a tema natalizio valido dal primo novembre fino appunto a natale quindi per tutto il mese di dicembre casanova è un una catena sono una catena di negozi presenti più o meno in tutti i centri commerciali quindi non vi dovrebbe diciamo tornare difficile e andare a cercare il vostro negozio di riferimento sappiamo già che da casanova alcuni articoli si possono comprare in super offerta altri costano un po di più però naturalmente ci sono sempre quei pezzi la cui qualità fanno la differenza poi naturalmente stanno ai scegliere che tipo di regalo o che tipo di accessori o di utenti andare a comprare per la nostra casa lo sfoglio insieme a voi quindi naturalmente farò una panoramica di tutto quello che è presente nel catalogo se avete qualche domanda magari me la lasciate nei commenti oppure fate uno screen insomma della pagina e potete andare a vedere poi con attenzione gli articoli trattati loro sono leader comunque nel campo delle delle pentole dei tegami delle batterie di pentole dei servizi di piatti dei servizi di posate questo è un una cosa di personalizzazione che loro fanno anche sui loro prodotti infatti si possono realizzare anche dei dei biglietti di auguri in 3d o stampare anche sui loro articoli come in questo caso ad esempio la pallina con il nome la pallina di natale molto graziosa 5 euro e 95 per fare un pensierino oppure ci sono le calze con le iniziali o il cornetto portafortuna con il suo nome per fare dei piccoli pensierini per natale ecco trezzi sono buoni poi naturalmente cominciamo a salire col budget quindi abbiamo i profumatori per ambiente con dei pecc davvero carini cuscini la l'ognometto decorativo e la renna qua abbiamo lanterne e profumatori per ambiente la candela col segno del locale cielo perché mi è stata regalata l'anno scorso però non profuma tantissimo qui abbiamo i calici le posate loro trattano anche appunto tantissimi servizi di piatti in porcellana posate calici come vedete qua ad esempio questi sono 12 90 i bicchieri candelabri servizio di piatti in porcellana poi ci sono questi per fare appunto una tavola bella addobbata il bicchiere con l'iniziale qua troviamo ancora altri prodotti ad esempio il cessello per il ghiaccio la bottiglia qui ad esempio troviamo il tappo per lo champagne un servizio di posate in acciaio a 60 euro questo molto carini sono gli umidificatori da mettere sui termosifoni sono molto carini a cuoricino le scimmiette decorative ancora cuscini in velluto qua ci sono altri bicchieri andiamo avanti con questi sono i portatoveglioni anche questi sono molto simpatici guardate che belle tavole di sotto bicchieri la lanterna a foglia 22 ore e 90 molto bella poi hanno tutti quegli utensili tutti quelli elettrodomestici che servono anche in cucina o per preparare i pranzi per aprire le bottiglie di vino vedete qui c'è stello per lo champagne questo dire dischi addirittura anche poltrone il robot da cucina le varie frigidrici e pentole a pressioni le pentole quelle la con digitali quindi le nuove pentole ormai il progresso è arrivato anche sugli elettrodomestici piatti per pizza questo fornetto è molto molto gettonato i set di coltelli a fila coltelli i bicchieri con la scritta il cactus oro posate le tasse molto carine i due strofinacci 5 ore e 90 bicchieri spremi agrumi poi vediamo qua ancora ventole a pressione la macchina per il pane sono molto belli questi contenitori che sono sembrano del ego e questi invece con i tappi in bambù molto belli anche molto eleganti dentro un frigo questo è bianco natale come vi dicevo loro sono appunto leader per quanto riguarda tutte le pentole anti aderenti le batterie di pentole i taglieri le varie pentole per fare i dolci per fare pancake ma film ci sono le bilanze di precisione la crepiera che va bene anche per il forno a induzione le alzatine guardate che sono carine i guanti da forno questo lo stampo per fare il panettone 14 90 la spatola natalizia questa per fare la chiffon cake che quella che viene bella alta alta interessante questa bollitore altre tazze tovagliette con l'iniziale tostapane montalatte guardate che carino questo set tutto colorato di tazzine alzatine e scatole le caraffe le candele con l'iniziale i bicchieri con i cuori questo il piattino cuscini arredo e poi il natale d'autore con tutti i parrur copri piumino le lui per ragazzi i vari contenitori e scatole così d'arte che sembrano proprio colorate e sono molto molto belle lampada sale scatole trapunte in velluto il play guardate che carino il play dentro la confezione di latta a 17 90 la parrur copri copri piumino prodotti per la pulizia della casa e anche qui poi troviamo le bag d'autore quelli appunto decorate e fine questo appunto è il volantino di caso nuova e quindi ecco fatemi sapere se lo avete trovato interessante o se magari vi piace io sicuramente andrò a vedere di presenza magari in qualche centro commerciale perché generalmente sotto natale fanno appunto tutte queste composizioni natalizie con le tazzine con i guanti con le candele quindi hanno davvero delle proposte delle idee regalo molto molto carine e diciamo per tutte per tutte le le cifre ecco quindi abbastanza diciamo sia economici che qualcosina anche da spendere in più questo è quanto io vi ringrazio per aver visto questo video e naturalmente ci vediamo alla prossima ciao a tutte un bacio